Eccovi qua, neanche il tempo di finire messo e di dire andate in pace, mi sono girato, non vi ho visto più. Io ci tengo a dire un'ultima cosa, che domenica prossima andremo a San Giovanni Rotondo in visita a Padre Pio. Voglio ricordarvi che ci sono ancora dei posti disponibili. Chi fosse interessato basta mandare una mail a hovistolamadonnachiocciolaiu.it, mi raccomando scriveteci, scriveteci. Non vedo tra di voi Filomena la zitella, dov'è la zitella? No, non ci dice, è brutta. Gitella, quando la vedete le dovete dire che in chiesa quando cantiamo ti salutiamo, vergine, non se ne devi andare. E fa sempre quello, non se ne devi andare. Ah, ah, permette Diego, Diego cari, io ti voglio ringraziare, se tu ogni domenica sei sempre presente in chiesa, mi riempiti i complimenti per come ti commessa. Però ogni tanto, due soldini nell'offertorio e metticeli Diego, quelli verdi. Ah, voglio in altre ricordarvi che domenica prossima ci sarà la raccolta per l'Africa. Paolo, ho detto Africa, sono tre anni che porti le coperte di lana, las porne famno e fritto, Paolo. E un po' di attenzione, Paolo. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, ah, c'è anche la bella selvaggia, come stai, sei tutto bello, selvaggia, selvaggia mia. Io capisco che è il tuo lavoro, selvaggia, ma quando ti viene a confessare, selvaggia mia, dice cazzo tuo, noi cazzo elate, selvaggia. Non andiamo proprio bene. Non andiamo bene. Se continuiamo così io la chiesa la chiudo e la vendo a Tecno Chiese. Io capisco, capisco che sono, a volte mi lascio prendere, però voglio farvi una promessa. Se domenica prossima andrà tutto bene, una bella funzione, insieme alle osse e viderò anche il limoncello. Quello che fa mia moglie. Vi aspetto in chiesa. Ciao. Grande, Andrea, Andrea Monetti. Andrea.